Studio 7, in collaborazione con Sport e Pipiceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuti alla nuova puntata, abbiamo ospiti i Meganoidi. Allora, la domanda più semplice, noi artisticamente vi conosciamo da benissimo, da tanto tempo, ma oggi se dovessi descrivere i Meganoidi, come li descriveresti? Diciamo che i Meganoidi secondo me non vanno descritti, vanno ascoltati. Nel senso che è molto difficile a parole cercare di dare una definizione di quello che facciamo noi musicalmente. Cioè, chi ha ascoltato la nostra discografia sa benissimo che in qualche modo noi cerchiamo di fare il nostro genere, che è il genere Meganoidi, è una matrice ben precisa. Il nostro scopo è quello di, e forse in qualche modo te lo sto riscrivendo, nel senso che il nostro modo di comporre, il nostro modo di vivere la musica, il processo creativo, è talmente vario, è talmente privo di paletti che ci spingono a dover per forza confezionare le cose allo stesso modo che ascoltare la nostra discografia, o comunque ascoltare noi, è una sorta di piccolo viaggio nella nostra anima, nella nostra creatività, perché poi passiamo dalle cose più panca, alle cose più rock, alle cose più pop. Abbiamo tante striature, tante sfaccettature. A questo punto, tanto passiamo a parlare del nuovo disco. Intanto come nasce questo disco? Come si è sviluppato? E da cosa ti avete tratto ispirazioni? Allora, Mescla, che tra l'altro è uscito in un periodo estremamente fortunato, perché è uscito il 6 marzo del 2020, due giorni prima del lockdown, è un disco che già dal titolo, che comunque è una parola portoghese, Mescla, che significa miscuglio, mescolanza, che tratta proprio non solo il tema creativo, ma è il tema di trovare in qualche modo delle contaminazioni, degli spunti per andare oltre il proprio orticello. Quindi noi abbiamo sempre, come dicevo prima, affrontato un processo creativo in modo estremamente vario e quindi mescla non solo il titolo, ma anche il disco in sé in qualche modo racconta quello che sono i Meganoidi dall'inizio ad oggi e che probabilmente saranno anche in futuro. Intanto ricordiamo che infatti molta gente già sa che i Meganoidi deriva dal fatto che un po' nerd siamo nati con Daytan 3 e che abbiamo difeso, difendete gli sfigati che sono i Meganoidi. Poi in realtà sono gentiluomi perché con 500.000 Meganoidi in realtà attaccano uno alla volta perché non si sa. Sì. No, comunque in modo assolutamente ironico all'inizio, noi siamo cresciuti, ma come tanti altri, con l'idea che il cattivo fosse cattivo. In realtà più delle volte il cattivo è uno sfigato, nel senso che nel caso comunque dei manga giapponesi spesso il cattivo è semplicemente uno che cerca di rifarsi in qualche modo, magari in modo sconclusionato e in modo sciocco, però non è la visione olividiana del cattivo affascinante, pieno di mistero. E quindi ci faceva piacere all'inizio prenderci cura un po' di quella parte un po' più sciocchina e sfortunata che è in tutti noi, che è quella comunque dei finti cattivi, perché poi alla fine cattivi non erano, erano delle persone che avevano dei problemi. di meccanoidi. Nel primo video dei meccanoidi, che poi il brano si intera a meccanoidi, fate riferimento un pochettino anche all'atteggiamento che aveva in One Step Behind e quel tipo di camminare un pochettino che avete ripreso e forse anche è stato quella parte del successo anche in quel video oltre che alla canzone. Beh, sì, sì, sicuramente fa parte assolutamente del successo di quella canzone. In qualche modo in quel video noi volevamo essere una sorta di mormoni che predicavano il verbo dei meccanoidi. Tra l'altro un video fatto con Lorenzo Vignolo che è stato poi anche regista di altri video come Z Reticoli. Un video che è una scommessa. In quegli anni lì fare un video autoprodotto costato all'epoca pochissimo, cioè tipo intorno al milione delle vecchie lire, in pellicole in 16 mm con un direttore della fotografia, con un regista, con tutte quelle comparse recuperate così al volo proprio durante il video che sono amici alla fine o passanti, è stata una scommessa, è stata una cosa divertente ed è stato lì l'inizio poi alla fine. Il fatto che noi scommettessimo su delle cose in cui normalmente gli indipendenti, ma gli indipendenti reali, non quelli con la sigla indie, cioè gli indipendenti autodeterminati artisticamente e autoprodotti. Noi siamo tuttora quello. E invece nel tempo poi voi siete passati, hai detto appunto in questo disco ci sono tanti generi, non esiste un genere. Voi siete il meccanoglie, hai detto appunto, ma nel tempo artisticamente cosa è cambiato poi per sfociare in questo disco? Come siete cambiati nel tempo? Ma guarda, fondamentalmente noi siamo cambiati perché siamo cresciuti. Sono cambiati anche, parlando proprio di cose più semplici, anche le configurazioni personali, nel senso che comunque abbiamo messo su famiglia, siamo diventati grandi. Poi da un punto di vista artistico è cambiato che abbiamo continuato a cavalcare quella sorta di ingranaggio, di scommessa su noi stessi, come fa ogni piccolo imprenditore nella sua vita. Cioè noi affrontiamo il percorso artistico con una certa serietà, non ci vogliamo assicurare un risultato, vogliamo conquistarcelo un risultato. Quindi in tutti questi anni noi abbiamo sempre cercato a ogni disco di raccontare al meglio quello che eravamo in quel momento. A volte magari a volte più bene e a volte peggio per gli ascoltatori. Nel senso, comunque noi ci abbiamo sempre messo la faccia. quindi ascoltare i meganodi è anche prendersi tutto il pacchetto regalo. L'emozione che si prova salendo sul palco, la prima emozione che è stata salendo sul palco è avere davanti un pubblico che inizialmente è silenzioso perché poi quel silenzio che parla che vi ascolta poi si emoziona, canta, ride, piange. Qual è la vostra emozione poi quando vi trasmettono questa energia di fronte? Guarda, l'emozione è sempre tanta. C'è la dire che noi affrontiamo il nostro pubblico con la gioia proprio del confronto. Cioè, chi viene ai nostri concerti non avrebbe neanche bisogno di sentire quello che sto per dire ma noi stiamo con loro prima del concerto, durante il concerto e dopo il concerto. Cerchiamo di capire cosa hanno da dirci, ascoltiamo i complimenti ma ascoltiamo soprattutto le critiche. quindi noi chi segue anche i nostri social noi rispondiamo personalmente a tutti o perlomeno ci proviamo quindi questa emozione è ancora più più intensa perché noi con il nostro pubblico che molti chiamano fan ma noi chiamiamo amici chi ti segue da 25 anni è un amico non è un fan non so come spiegarlo però è veramente io alcuni li conosco personalmente e ci scambiamo gli auguri di Natale di compleanno ci chiediamo come va e non sono pochi sono tanti e a me piace a me a me singolarmente ma anche agli altri della band piace mantenere questo rapporto con le persone invece quando scendi al palco punto questi sono amici ma inizialmente quando sei sceso al palco le prime volte che ti chiedevano ti volevano far domande si emozionavano nel farti anche emozionare nel farti domande che non riuscivano a trovare le parole per farti domande però tu gli hai dato le risposte che in realtà le hai resi ancora più felici nonostante che in realtà la domanda non ci fosse qual è stata la tua prima fase le sensazioni che hai provato ma soprattutto quando ti hanno chiesto anche il primo autografo qual è stato? beh mi imbarazza sempre l'autografo mi imbarazza sempre perché dico non te lo voglio rovinare il disco poi anche perché sono genovese dico con quello che costa non vorrei rovinarlo però la sensazione è sempre bella è sempre bella il fatto che quello che fai la tua musica quello che proponi entri nella vita degli altri questa è la cosa emozionante ed è emozionante anche la sensazione che provi quando alla fine di un concerto una persona la vedi guardi negli occhi ti fai quattro chiacchiere ti bevi anche una birra insieme e capisci che quello che quello che tu hai provato in qualche modo a comunicare è arrivato bene a volte arriva ancora meglio rispetto a quello che magari tu rispetto alle tue possibilità perché molti hanno molti hanno la tendenza a pensare che esista un palco e esista il pubblico il concerto è fatto da queste due cose insieme non può esistere una cosa senza l'altra cioè la musica che noi facciamo che fanno gli artisti l'arte in generale senza coloro che ne godono non esisterebbe quindi molte volte c'è da parte di una persona che viene a parlare con l'artista quasi non so come dirti la sudditanza di dire no perché volevo chiederti una cosa in realtà direi quasi che è il contrario siamo più le volte che noi artisti dobbiamo ringraziare chi ci ascolta che è il contrario poi a noi il fatto che la nostra musica entri nelle loro vite è che uno si sposi ascoltando un nostro pezzo conosca degli amici ballando su dei nostri pezzi questo per noi è semplicemente un privilegio un onore è una cosa bella nelle domande che ti pongono sono più complesse quelle dei giovani o di quelle persone un pochino più attempate che ti mettono in difficoltà o comunque ti sorprendono al punto tale da avere anche difficoltà di rispondere guarda ti dirò non credo che esista una differenza tra giovani e maturi per quanto riguarda le domande che possono porre a noi come meganoidi perché normalmente le persone mature che ascoltano i meganoidi o comunque i gruppi ascoltano musica ascoltano rock così tendono a mantenere vivo il proprio bambino però i giovani che ascoltano musica e che vanno ai concerti sono sono molto più maturi della loro età quindi fanno sempre delle domande molto pertinenti azzeccate nel senso che questo divario di età non esiste perché gli amanti della musica del live dei concerti sono uniti dalla passione e questa passione va al di là dell'età quindi non vedo questa differenza tra domande ti posso dire che normalmente mi fanno magari domande sui dischi quando uscirà qualcosa di nuovo magari mi fanno domande su magari un brano su un brano in particolare come quando è stato scritto in che momento però non ci sono domande banali ecco per dirti non è che mi arrivano delle domande che dico questa è troppo complicata sono domande di musica e di arte quindi di quello che facciamo noi quindi è molto bello c'è qualche momento particolare che ricordi nella creazione di questo disco che comunque vada ha dato un po' risalto e soprattutto poi in realtà ha fatto crescere anche il disco stesso allora guarda noi mescla l'ultimo disco io l'ho scritto in tempo estremamente breve le musiche le musiche le ho scritte nel giro di una decina di giorni non di più i testi con Davide che è il cantante li abbiamo scritti anche lì una settimana dieci giorni e li abbiamo scritti proprio mentre le nostre famiglie erano in ferie perché essendo essendo a cavallo con con le date e il tour l'unico momento che abbiamo trovato per portare e scrivere i testi era l'agosto del 2019 in questo caso quindi le nostre rispettive famiglie sono andate comunque un po' al mare con i bimbi così e noi ci siamo dedicati quella settimana dieci giorni lì chiusi in saletta e e boh forse la cosa che ha reso questo disco questo disco mescla speciale per certi versi è che gli abbiamo dedicato il tempo che avremmo in teoria dovuto dedicare alle famiglie nel senso quindi quel disco lì è parte della nostra famiglia in qualche modo partendo con questo brainstorm che avete fatto in questa ma a questo punto la domanda più spontanea di questa senza viene ma nascono prima la musica in questo caso abbiamo detto l'hai detto prima la musica prima le parole oppure nascono insieme in alcuni casi nella reazione guarda l'hai detto tu in questo momento a volte nascono le parole e poi la musica a volte nascono la musica e poi le parole e a volte nascono insieme a volte ci sono dei parti gemellati nel senso nascono insieme dipende a volte a volte proprio in una frase c'è talmente tanta musicalità che vai a costruire qualcosa che lo possa sostenere musicalmente mentre invece a volte ci sono delle 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 tessiture armoniche delle scritture che sono talmente dirette pensa pensa un attimo alle musiche delle colonne sonore dei film non c'è bisogno di una parola per spiegarti cosa ti vuole comunicare quel pezzo a volte quando stai scrivendo un pezzo è proprio la musica stessa che ti suggerisce quasi le parole quindi invece a volte hai bisogno di a volte magari proprio un lavoro a quattro mani per cui parti con una musica a un'altra persona un tuo socio un tuo collaboratore viene in mente magari una frase e nascono insieme e si va avanti così e quando sali sul palco in mente un artista stacca il cervello della sua vita e sale e pensa alla musica a questo punto del gruppo chi è il mentalmente quasi sano nel ogni cui suonate dal vivo in che senso inteso che ovviamente chi è a volte sono persone tranquille poi sul palco si scatenano si animano diversamente da che poi in realtà fuori dal palco sono diversi chi è di voi che effettivamente ha questa attività che poi distacca questo mondo e sul palco è tutt'altra persona che non è è quasi riconoscibile a livello beh guarda ti dirò in realtà in realtà questa cosa non accade ad esempio Davide il cantante è estremamente casinaro è uno che si diverte scherzoso e tutto e sul palco è così io tendo a essere un po' irriverente così però poi quando però sono estremamente concentrato io nella vita e lo sono anche sul palco e quindi già il nostro bassista è una persona che si diverte che si diverte sul palco suona e si diverte magari si può fare un salto sul palco mentre suona che magari non farebbe sul bus mentre deve timbrare il biglietto però siamo abbastanza noi stessi nel senso comunque nel limite live amplifica un pochettino la tua personalità però diciamo che non è che siamo non recitiamo un ruolo quindi non siamo abbastanza coerenti alla nostra faccia da pirla quando scendiamo dal palco e invece la copertina di questo disco come nasce? allora se tu guardi la copertina di questo disco e il concetto che abbiamo toccato prima che è quello di miscuglio mescolanza noi con Massimo Cabuto Repetto che è il grafico che ha fatto questa copertina abbiamo parlato proprio del fatto che al di là di tutto dietro come si dice dietro un dietro un incontro di due idee dietro un incontro di due persone di due modi di vedere le cose così nasce sempre alla fine quando è un confronto qualcosa di bello quindi un miscuglio una mescolanza quindi lui ha tradotto questo nostro pensiero del disco in una sorta di animale che non esiste che però è estremamente colorato pieno di sfaccettature e pieno di vita a questo punto i social voi utilizzate molto i social avete comunque Spotify nel tempo com'è cambiato effettivamente i ragazzi e la musica com'è cambiato il rapporto perché a volte avere l'aspetto fisico il cd l'lp sembra quasi che sia diventato un optional anzi un momento di qualcosa da collezionare ma neanche da ascoltare il vostro rapporto con queste situazioni è cambiato secondo voi la visione della musica oppure no? secondo me è cambiato sicuramente qualche anno fa ti avrei detto ti parlo di 6-7 anni fa ti avrei detto assolutamente radicalmente è cambiato completamente perché in effetti non stavano ritornando l'amore per i supporti che sta in qualche modo tornando adesso quindi prima c'era solamente chi ascoltava la musica sul supporto che era sempre meno e quelli che ascoltavano musica solamente in streaming adesso io vedo un sacco di persone che uniscono l'ascolto in streaming all'amore per il supporto quindi ci sono un sacco di ragazzi giovani che io vedo 18 anni 20 anni che si comprano il piatto per ascoltare i miei libri o utilizzano quello dei genitori o dello zio che è una cosa straordinaria se ci pensiate ma naturalmente stiamo parlando di numeri abbastanza risicati per risollevare assolutamente il mercato del supporto della musica però è un segnale quindi è un segnale che si stia tornando si stia tornando a sedersi ascoltarsi un disco e prendersi il tempo per ascoltare un disco lo stesso tempo che normalmente si prende per leggere un libro e si prende per fare dell'altro e questa è una cosa importante che non sia più intrattenimento da mentre faccio la spesa qualche artista ha detto che l'esperienza non nasce il fatto di suonare in mezzo alla strada perché scende il movimento ma salire sul palco è avere di fronte una persona che ascolta tutti i tuoi brani e dedica il tuo tempo ad ascoltare i brani oppure è necessario per forza andare a un talent per poter imparare o fare gavetta guarda per fare gavetta bisogna fare gavetta cioè non è non è non è andare a un talent cioè quello che va al talent funziona e poi ci sa fare ha fatto anche la gavetta cioè il talent è stato un chiamiamolo un trampolino è comunque uno che ci ha perso del tempo dietro sicuramente chi fa musica e fa musica originale ha 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 diciamo una corazza in più perché si scontra prima col giudizio della gente che non si la gente non ti dà un giudizio solamente sull'esecuzione ti dà un giudizio anche su quello che hai detto e scritto quello che hai voluto comunicare se la non quindi io consiglio sempre attenzione non voglio giudicare ognuno fa quello che gli pare però affrontare affrontare il percorso artistico scrivendo mette facendo facendo l'insamble quindi creando delle band confrontandosi con gli altri è la cosa secondo me più importante poi attenzione poi uno può decidere di fare il cantante o il chitarrista ipertecnico e fare cover oppure ne andrà un talent però secondo me è una scorciatoia non è un poi se tu invece vuoi fare il turnista è molto utile dipende sempre cosa vuoi fare se però sei super tecnico canti da paura e poi non stai scrivendo non stai facendo niente di tuo è normale che poi il tuo percorso sia quello di insegnante di canto e cover band giusto è chitarrista abbiamo detto trombettista anche trombettista chitarrista e chitarrista pulistrometista però nel tempo abbiamo ascoltato tanti artisti soprattutto chitarristi ma questa domanda non l'ho mai fatta ma quando si suona la chitarra soprattutto negli assoli quelle facce da sembrano sofferenti mostruosamente ma è necessario cioè andiamo lì oppure con le gambe larghe dei tempi chitarristi degli anni 90 degli anni 80 gli heavy metal andavano con queste stile cowboy stile fionde che si utilizzava negli anni 70 io ce l'avevo la fionda del cowboy con queste gambe larghe ma è tanto scenico e la gente si diverte a vederlo oppure non serve a nulla ma no 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 però sicuramente un periodo storico influenza alcune tendenze e alcune tendenze influenzano quel periodo storico quindi le facce alcuni fanno le facce perché comunque è un è un riflesso involontario io ad esempio non ne faccio ma perché sono sono probabilmente un sociopatico nel senso che non non le faccio magari posso sorridere ma difficilmente faccio le facce così mentre suonano non me ne fregno anche perché sono anche abituato a suonare la tromba se facessi le facce così non potrei suonare però è comunque espressione espressione non lo so secondo me alcuni ci ci calcano la mano e altri semplicemente sono sono fatti così mentre suonano c'è qualche artista a cui ti sei ispirato o comunque anche ti ha fatto crescere artisticamente beh artisti che mi hanno fatto crescere artisticamente ce ne sono diversi però se dovessi identificare qualcuno beh direi sicuramente Prince Peter Gabriel e Pink Floyd che sono stati uno dei miei primi amori Led Zeppelin e Porcupine Tree Stephen Wilson mi piace molto come scrive e ne ho veramente tanti Stevie Wonder tutto quello che riguarda la Motown gli Stevie Dan te ne potrei dire tantissimi in realtà sono me ne piacciono tantissimi quindi non riuscirei a dirtene uno se vuoi te ne dico tremila e il concerto che ti è rimasto più nel cuore quelli di tra i tanti enormi che avete fatto quello che ti ha lasciato più emozioni forse anche tu nel tempo poi te lo sei portato indietro nel come ricordo importante o comunque bello c'è? beh ti dirò un concerto che mi porto nel cuore che mi porto tanto nel cuore che tra l'altro è possibile vederlo su youtube perché è il concerto che abbiamo registrato a Lorion di Ciampino vicino Roma perché quello lì è un live registrato in HD in full HD registrato grazie ai fan nel senso che hanno contribuito alla realizzazione di quel video quindi essere lì con le persone che che hanno prodotto lo hanno prodotto loro in live è stato molto emozionante perché noi l'abbiamo fatto quasi per gioco con la piattaforma con il crowdfunding con Music Racer l'abbiamo fatto così per gioco l'abbiamo detto facciamo un DVD live e ci siamo detti boh io vediamo se lo vuole la gente perché poi tante volte forse magari non c'è bisogno di uscire con così tante cose a volte magari è semplicemente nutrire il proprio ego e quindi l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto su Music Racer e alla fine siamo arrivati al 100% del del budget della realizzazione di questo DVD live nel giro di poco nel senso c'erano 60 giorni di tempo già al al 35esimo giorno così l'avevamo raggiunto quindi è stato emozionante perché lì in tempo reale vedevi l'affetto delle persone vedi proprio l'affetto delle persone che dicevano no io lo voglio voglio essere presente voglio essere uno dei produttori voglio acquistare il DVD in anticipo cioè quindi ti rendi conto di tutte le persone che ti vogliono bene che a volte magari non te lo ricordi spesso e invece quello lì è stato molto importante intanto le dati dei prossimi live quali sono? le dati dei prossimi live sono questo sabato noi suoneremo a Pinerare di Cervia e poi tutte le date consiglio di dare un'occhiata ai nostri social network che sono su Instagram su Facebook Twitter perché questo momento questo momento dell'anno è il momento in cui escono poi tutte le date invernali e nel giro di una settimana o due ne usciranno tantissime fortunatamente perché la nostra agenzia ci ha detto che il tour continuerà è molto bene quindi dopo due anni in cui siamo stati fermi come molte band così vedere tornando al discorso dell'affetto vedere che appena si riapre il calendario quest'estate abbiamo fatto non so abbiamo superato penso le 35 date dal marzo da marzo 2022 quindi vedere che c'è così tanto interesse a venire a vederci a sentire le nuove cose per noi è emozionante e a questo punto cosa abbiamo dimenticato dell'ultimo disco e soprattutto su Meganoidi secondo te ma secondo me una cosa l'abbiamo dimenticata è che questo 15 settembre esce ed è possibile acquistare la ristampa di Outside the Loop Stupendo Sensation in vinile in tiratura limitata questo ce lo si è dimenticato a questo punto l'abbiamo ricordato e noi ci metteremo in fila a cercare di poterla acquistare intanto allora abbiamo ancora un pochettino di tempo alcuni tuoi colleghi ultimamente stanno soffrendo di depressione di concerti abbiamo visto con il cantante di Metallica altri cantanti che hanno sospeso le tour ma è tanto fastidioso è tanto difficoltoso andare in tournée o suonare dal vivo che artisti di grande calibro hanno cominciato a soffrire la paura del palco guarda non te lo so dire non te lo so dire questo perché io lo so che potrò sembrare superficiale su queste cose però per me è il lavoro più bello del mondo io se non suono sto male io sto male se non suono quando mi dicono ah dove vai domani devi andare fino a Palermo per me è gioia per me è vacanza suonare poi magari in altri in altri circuiti ad altri livelli è estremamente stressante ma io non preferisco mille volte fare un concerto a a Lecce e tornare indietro che andare al supermercato a prendere due cestelli d'acqua ma preferisco di gran lunga cioè per me è bello quindi non riesco molto sicuramente se uno arriva al punto di non stare bene e di soffrire questa cosa ha le sue motivazioni però bisognerebbe chiederlo a lui io non so non so come aiutarvi allora un saluto e un abbraccio forte dei Meganoidi a tutti voi e ci vediamo in tour Studio 7 in collaborazione con Sport e Pipiceno Game presenta l'intervista di Pietro � an un an un 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 Grazie per la visione!